Due gli equipaggi che la borgata marinara dell'Eri ci sta preparando per portare finalmente di nuovo in mare durante l'Eprepalio che sono mancate tanto in questi due anni. Due equipaggi peraltro presentati insieme a tutto lo staff in una bellissima cerimonia venuta in piazza proprio pochi giorni fa. Sì, quest'anno scenderemo in mare con due equipaggi, quello femminile e quello senior. Li abbiamo presentati proprio domenica durante una tradizionale cerimonia che a noi piace svolgere ogni anno proprio per omaggiare gli atleti che scenderanno poi in acqua. È una manifestazione che ci siamo inventati una quindicina di anni fa e era un modo per presentare i ragazzi al paese. È una cosa che facciamo in piazza, non facciamo in sedi o in sale particolari, la facciamo proprio in piazza. Portiamo le barche, i colori, la musica e quant'altro, la nostra allegria ma soprattutto poi l'ufficialità dei componenti che poi disputeranno le gare. A questa manifestazione hanno partecipato il sindaco, gli assessori e il paroco al quale teniamo molto perché fa questa cerimonia di presentazione e di benedizione e niente, quindi è un buon auspicio e soprattutto una ripresa dopo questi due anni. Da un punto di vista sportivo quali sono un po' gli obiettivi di questi due equipaggi? Allora, l'equipaggio femminile è un equipaggio molto giovane, allenato da Chiara Lazzoni e su di loro riponiamo delle aspettative ambiziose anche perché nonostante siano giovani si sono date molto da fare, sono molto precise, molto attenti agli allenamenti, costanti. Certo, si dovranno scontrare contro equipaggi con un'esperienza veramente pluriennale però sicuramente daranno fastidio. L'equipaggio segno è un equipaggio variegato, ci sono persone più giovani e persone meno giovani quindi noi scendiamo sempre con le solite ambizioni. L'Eri ci ha dato dimostrazione negli ultimi anni di magari a volte farsi trovare nelle ultime posizioni della classifica ma poi avere questi guizzi per cui non si sa mai. Ecco, obiettivi non solo per il Palio del Golfo perché nei vostri progetti c'è anche la partecipazione con i guozi ai campionati nazionali. Esatto, sono un po' di anni che cerchiamo appunto di partecipare anche ai campionati italiani di Gozzo abbiamo disputato diverse gare nazionali, ne abbiamo organizzata anche una alerici però poi nelle fasi finali a settembre era difficile scendere in mare perché gli equipaggi che avevano disputato il Palio poi dopo non avevano più voglia oppure magari si sfacevano per motivi vari per cui quest'anno abbiamo deciso di fare equipaggi diversi dal Gozzo rispetto a quelli del Palio abbiamo già fatto una gara, ne faremo un'altra a Vernazzola a giugno e poi i campionati italiani a settembre.